Shabbat shalom a tutti e vi voglio dare il benvenuto alla parasha di questa settimana mi chiedo perdono per il ritardo però ci stiamo riprendendo dal fuso orario al ritorno e quindi ci stiamo riprendendo un po' questa settimana il la parasha di queste settimane si chiama noach che vuol dire noach e noach vuol dire riposo in ebraico la porzione del Torah viene dal libro di Genesi versetto 6 cioè capitolo 6 versetto 9 a capitolo 11 versetto 32 e per la porzione di Haftarah sarebbe la porzione profetica viene da Isaia 54 versetto 1 a 55 versetto 5 e per la per la porzione di B'Hara Shah ci sarebbe il nuovo testamento nuovo patto viene dal primo Pietro capitolo 3 versetti 1 a versetti 8 a 22 e Matteo 24 versetti 36 e 46 oggi parliamo del perché Dio ha distrutto il mondo e parleremo anche del significato più profondo del nome di Noach cioè di Noach quindi parliamo di perché Dio ha distrutto il mondo con un diluvio e perché ha spazzato via l'umanità ovviamente conosciamo tutta la storia del diluvio le persone non facevano nulla di buono sul mondo era altamente malvagio il mondo quindi Dio ha deciso di distruggerlo di distruggerle tutte tranne otto persone ovviamente ma che cosa dire del pentimento per esempio che cosa ne diciamo di fare spazio per miglioramenti perché Dio all'improvviso ha deciso che questo progetto chiamato creazione era una causa persa e doveva ricominciare tutto da capo con queste otto persone quindi credo che trovano una risposta in tutti fra tutti i luoghi in nome di Noach cioè Noè si scopre che per capire cosa fosse così problematico nello stato dell'umanità da spingere Dio a portare il diluvio dobbiamo capire il significato del nome di Noè quando viene nominato Noach suo padre Lamech afferma che fornirà sollievo all'umanità e meno di dieci versetti dopo Dio si remarca di aver creato l'uomo e decide di distruggere il mondo confrontando i parallelismi testuali dei due eventi capiremo l'errore del padre Lamech cioè sotto le superfici di questo testo c'è una storia sorprendente su come affrontiamo la perdita e sulle insidie di cercare conforto facile nei modi sbagliati ok quindi benvenuti alla parasha di Noach oggi voglio parlarvi del nome di Noach la Torah in realtà ci parla del nome di Noach e ci dice com'è esattamente che l'ha ottenuto si scopre che il padre di Noach Lamech ha fatto una dichiarazione sulla nascita di Noach perché come sappiamo i nomi a quell'epoca e ancora oggi hanno un significato e c'è qualcosa di molto sconcertante anche un po' agghiacciante in quella dichiarazione adesso ve lo leggo il significato del nome di Noach è la chiave perché Dio ha distrutto il mondo Baikra et shimò Noach e chiamò il nome di suo figlio Noach poi questo ci consolerà dalle nostre azioni e dalla tristezza delle nostre mani dalla terra che Dio ha maledetto in qualche modo Lamech sente che questo bambino lo consolerà non soltanto che lo consolerà ma consolerà tutti noi consolerà l'umanità dalla maledizione della terra ma qual è la maledizione della terra la maledizione della terra risale alla storia come sappiamo le prime storie nella Bibbia nella Torah le storie dell'albero della conoscenza la storia di Caino e Abele dove la terra fu maledetta quindi c'erano conseguenze nel mangiare dall'albero della conoscenza come sappiamo c'erano conseguenze nell'uccisione di Abele da parte di Caino e quelle conseguenze si esprimono in due modi principali una di loro era un'alienazione da Dio Adamo ed Eva si nascondono da Dio subito dopo aver mangiato dall'albero Caino sente che trascorrerà la sua vita nascondendosi continuamente da Dio che ha lo stesso modo non solo un'alienazione da Dio ma anche dalla terra ad Adamo viene detto con tristezza e fatica lavorerai sulla terra tutti i giorni non provvedrà soltanto per te dovrai lavorarci sopra cioè prima se voi pensate Adamo non dovevo fare niente ad Eva non dovevano fare niente andavano in giro prendevano la frutta da qualsiasi albero tranne quell'albero la magari un broccolo o qualche verdura e se la mangiavano e basta non dovevano coltivare nulla e quella maledizione si intensifica anche ai tempi di Caino quando Caino viene detto che anche se lavora la terra non aiuterà non farà nulla lo ricordatevi può dire no o non non continuerà a darti la sua generosità cioè per lui la terra non avrebbe reso nulla adesso generazioni dopo Lamech arriva e sente che le cose potrebbero essere diverse ora questo ci consolerà dalla tristezza delle nostre mani dalla terra che Dio ha maledetto qui sembra tutto molto bello sembra molto promettente ma ecco la parte un po' strana, agghiacciante se avanziamo a velocemente non sei versetti davanti arriviamo ai versetti che descrivono la decisione di Dio di portare il diluvio la decisione da Dio di distruggere il mondo perché Lamech vive nella generazione che è proprio prima del diluvio quindi cosa dice la Bibbia sul perché Dio voleva distruggere il mondo? come sappiamo ha detto che la malvagità degli uomini sulla terra aveva raggiunto un punto che Dio non ce la faceva più come sta succedendo anche adesso perché come sta scritto negli ultimi tempi prima del ritorno di Yeshua sarà peggio dei tempi di noi pensate un po', già stiamo vedendo un po' queste cose l'accettazione dell'omosessualità, il transgenderismo, tutte queste cose adesso in California è stata passata una legge che la pedofilia è legale stiamo arrivando che fra poco la bestialità sarà legale gli uomini si mangeranno l'uno e l'altro tante cose succederanno che ancora non sono successe arriverà al punto peggio dei tempi di Noè adesso torniamo sul punto ora ascoltiamo la decisione di Dio di distruggere il mondo come descritto nella Torah nel capitolo 6, versetto 6 e Dio si pentì di aver creato l'uomo sulla terra e poi Dio disse ora se prestiamo attenzione alle parole qui troveremo una cosa molto affascinante ma molto agghiacciante che è la dichiarazione di Dio nel creare il mondo fa esattamente ecco alla dichiarazione che è la Mech sulla nascita di Noach queste sono le parole da guardare torniamo alla dichiarazione di Lamech parola numero uno conforto o rimpianto ha entrambi i significati questo ci consolerà mi ma aseno dalle nostre azioni e poi parola numero due fatti mi itzfon poi parola numero tre è tristezza e poi parola numero quattro min ha adamà che questo ci consolerà dalla tristezza delle nostre mani dalla terra che Dio ha creato ma se prendiamo queste quattro parole min ha him ha seno me itzfon adamà le troveremo ripetute nello stesso identico ordine nella decisione di Dio di distruggere il mondo min ha him ha shem c'è la parola numero uno e Dio si è pentito ma è la stessa parola per conforto tornando alla dichiarazione di Lamech chi ha sa c'è la parola numero due che aveva fatto l'uomo nella terra di quindi ecco la parola tristezza parola numero tre e poi come se fosse al momento giusto Dio dice io spazzaro via l'uomo mi alpene adamà dalla faccia dell'adamà della terra c'era la parola numero quattro è impossibile resistere alla conclusione perché per qualche strana ragione Dio sta imitando Lamech quando decide di distruggere il mondo la dichiarazione per la distruzione del mondo ha come prototipo il discorso di nomina che Lamech ha tenuto per Noach perché dovrebbe essere così? Noach è il motivo per cui Dio distruggere la terra con il diluvio forse quindi io voglio proporvi una teoria descrivi la dichiarazione Lamech Lamech ha detto che questo Noach ci consolerà ecco perché si chiama Noach dalla parola Yenachem che vuol dire consolare questo ci consolerà conforto per le maledizioni della terra in che modo Noach avrebbe comportato l'umanità dalla maledizione di Dio che Dio aveva posto sulla terra Lamech vide profetticamente che Noach sarebbe stato creatore dell'aratro l'aratro sarebbe una forma di conforto se ci pensiamo non avremmo più a che fare con la maledizione della terra prima si faceva tutta la mano adesso c'è l'aratro che magari con l'aiuto di un animale lo tira e c'è facilità il lavorare la terra quindi voglio suggerire che quella è stata la goccia che magari ha fatto travocare il vaso quel conforto la dichiarazione dell'aratro nel mondo primo del diluvio per ragioni di conforto e non solo per la creazione dell'aratro ma per il significato che l'umanità ha attribuito all'aratro che quell'aratro ci consolerebbe è la ragione per distruggere il mondo se noi pensiamo si trovano tanti modi per consolarci quando siamo tristi quando siamo male nel cibo nell'alcol magari nella droga il sesso le relazioni altre persone una casa il lavoro i soldi eccetera eccetera la lista va avanti ok perché? la risposta è perché l'aratro non potrai mai comportarti come queste cose che abbiamo nominato adesso non ci possono mai confortare cos'è il conforto? quando quando è che otteniamo il conforto? come otteniamo il conforto? quando siamo sconvolti da un terribile perdita come possiamo ottenere il conforto da una perdita? il conforto implica una sorta di cambiamento di prospettiva c'è una sorta di lutto per il quale non puoi ottenere il conforto si chiama aninut vuol dire dolore terribile dolore lanciante prima della lanciante scusate prima della sepoltura ma poi dopo la sepoltura c'è un nuovo tipo di lutto si chiama avvelut è fatto con alef bet lamed ed è la stessa parola di aval che vuol dire ma quindi una vel una persona in lutto si pone una domanda ma la domanda non ha risposta e la domanda è come può essere successo? perché è successo questo? è l'unica cosa che a vel può fare in ultima analisi è dire ma è successo è successo comunque è avveluto è lo stato del ma o del non di meno è successo e io devo affrontarlo è un cambio di prospettiva è la volontà di accogliere la scomoda realtà se in a cammino mi ma asseno disse la meh questo ci consolerà creerà l'aratro che ci permetterà di vivere di adattarci a una realtà scomoda le conseguenze quindi dei rimpianti di Dio dell'uomo quali erano gli scopi della maledizione? la maledizione della terra la trizzezza della terra perché era così triste lavorare la terra in modo tale che la lingua per la maledizione dovrebbe essere che lavorerai la terra con i sudori della tua fronte e la mangerai con tristezza come vi ho detto se ci pensate prima c'era il giardino dell'Eden non si doveva fare niente giravano a quell'epoca non erano vestiti erano nudi perché erano creati così potevano prendere la frutta da qualsiasi albero magari da qualsiasi cespuglia tranne quell'albero lì qualsiasi verdura un bel broccolo un cavofiore non lo so e potevano mangiare senza fare nulla adesso devono arrare la terra devono mettere i semi devono curare devono annaffiare e poi alla fine raccogliere non è bello c'è sempre quella memoria quel ricordo di come era prima quindi in generale che cosa c'è di così triste nel lavoro la risposta è quando il lavoro è solo al lavoro non è triste ma quando il lavoro è faticoso quando il lavoro avrebbe potuto essere più facile ma diventa più difficile adesso è triste c'è una futilità coinvolta e quindi la tristezza è una promemoria che le cose potrebbero essere diverse e una volta erano quindi la maledizione sulla scia dell'albero della conoscenza sulla scia dell'assassinio di Abel cioè Abel erano maledizioni che ci allontanavano dalla terra e ci allontanavano da Dio ci siamo nascosti da lui e quando abbiamo lavorato la terra non ci avrebbe più dato il suo potere sarebbe triste e lavoreremo terra è Dio c'è un commento molto in particolare di un rabbino e quando Dio che lui dice quando Dio disse facciamo l'uomo in Genesi 1 26 e noi così lui dice era perché Dio stava parlando della terra Dio ha detto alla terra tu contribuisci con il corpo io con l'anima insieme faremo l'uomo ma noi sappiamo che Dio stava parlando con Yeshua il suo figlio e lo Spirito Santo il Ruach HaKodesh lo sappiamo bene ok perché Dio è tre parti in uno ed è un mistero che nessuno può capire e non discuterlo con nessuno perché la Bibbia dice così Dio è uno sì Dio è uno cioè nel senso il figlio il padre e lo Spirito Santo sono uno ok non andate oltre perché è inutile basta accettarlo si chiama fede ok però lui dice così che Dio stava parlando della terra quindi la terra e Dio sono i creatori dell'uomo secondo questo rabbino ma diventiamo alienati dai nostri creatori terra e Dio sulla scia dell'albero della conoscenza quell'alienazione cresce dopo Caino e Abel e cresce e cresce e quando si fermerà e qual era il punto di quell'alienazione perché fare maledizioni che allontanano gli uomini da Dio Dio non vuole che siamo alienati la risposta è che c'è un faro di ricerca un faro di ricerca che tutti dobbiamo tornare al nostro creatore una volta eravamo tutti uno con lui il nostro creatore vogliamo sempre tornare indietro non vogliamo mai essere separati e più diventiamo alienati più forti diventano il faro di riferimento più forte vogliamo tornare almeno per chi cerca Dio per chi cerca la giustizia per chi cerca la verità ovviamente perché ci sono miliardi e miliardi di persone che non non gli interessa proprio però come esseri umani dentro noi c'è sempre quel faro che dice io voglio tornare a Dio a mio creatore questo è il punto delle maledizioni la maledizione sono comprendere le conseguenze dei peccati capisci quanto siamo diventati alienati e desideriamo tornare ti senti la tristezza la fatica e poi torni i motivi alla base per cui Dio ha distrutto il mondo quali sono? quando direbbe Dio che è giunto il momento di rendersi di distruggere il mondo arriva quando trovi conforto in tutti i posti sbagliati come vi dicevo prima il cibo l'alcol droga eccetera eccetera le relazioni con le persone lavoro soldi casa quello che volete le macchine la lista non finisce mai viene quando trovi conforto nell'aratro l'aratro è una soluzione tecnologica è un problema spirituale è un modo di prendere nel mesolid in modo da non provare più tristezza per esempio o bere troppo alcol quello che volete possiamo lavorare la terra con l'aratro possiamo adattarci a questa scomoda realtà non dobbiamo più occuparci dell'alienazione possiamo abituarci a questo ed è in quel momento che Dio dice dite che vi consolerete con la creazione dell'aratro state rinunciando alla relazione con me non c'è modo che tu possa o voi possiate mai tornare indietro ho un'altra non ho altra scelta che ricominciare tutto da capo ok la Bibbia è molto chiara dice per la malvagità dell'uomo lo fa però questa è un'idea e Dio usa lo stesso identico linguaggio che l'umanità usava per consolarsi con l'aratro per ricominciare tutto da capo con una fine al mondo cioè una fine acquosa al mondo precedente che è la speranza di un mondo migliore in un modo ricreato con una nuova lavagna e un nuovo aeroporto con questo essere ok come dice la Bibbia non fa niente che cosa facciamo nel mondo non fa niente come cerchiamo di avvicinarci a Dio possiamo fare tutti i mitzvot cioè le buone azioni del mondo non ci salverà non ci farà avvicinare al Signore al Padre l'unica possibilità di avvicinarci a Lui che sta scritto nel Nuovo Testamento che soltanto Yeshua Gesù è l'unica via al Padre è l'unico modo in cui possiamo avvicinarci al Padre tu puoi essere la persona che se tu pensi migliore al mondo che aiuta tutti quanti che vedi non farà nulla non ti salverà l'unica salvezza è Yeshua Hamashiach Gesù il Messia come sta scritto io sono la via la verità la via nessuno può venire dal Padre eh senza di me quindi e come dice chi crede in me sarà salvato salvato da che cosa dall'inferno dalla separazione eterna da Padre c'è il paradiso c'è il cielo e c'è la separazione eterna ok non esiste il purgatorio in cui potete scontare un po' di tempo e poi andare su stare con lui no o o o credete o non credete così è ed è scritto nella parola di Dio ok se non ci credete andate a leggere voi stessi la Bibbia per voi stessi non stare ad ascoltare un prete o nessun altro o il Papa o un pastore dovete leggere per voi stessi che cosa dice la Bibbia chi crede in me sarà salvato in un'altra parte dice chi grida il mio nome sarà salvato oggi oggi avete oggi per decidere cosa volete fare che tipo di eternità volete un'eternità senza e Padre senza il figlio fuori dal paradiso eterno con l'inferno orribile e c'è l'inferno ed è orribile ma Gesù Cristo Yeshua Mashiach è venuto qui è morto sulla croce è risorto il terzo giorno ed è salito in cielo e sta con il Padre e sta per tornare di nuovo fra poco e come ha detto lui io sono la via verità e la via chi crede in me sarà salvato basta come fu per il ladro sulla croce accanto a Yeshua ha detto per favore quando vai in paradiso oggi ricordati di me cosa ha detto Yeshua tu non ti preoccupare oggi stesso tu sarai come in paradiso era così semplice non ha detto ah scusa ma tu sei sulla croce ma devi scendere un attimo e ti devi battezzare se no non puoi andare su eh no non puoi andare no ha detto così ok voi che siete dite che dovete essere battezzati per essere salvati no battezzarsi è semplicemente un modo per far vedere al mondo che avete fatto questa scelta è un modo pubblico per dire al mondo io credo in Yeshua Hamashiach credo in Gesù Cristo basta solo quello c'è gente che muore senza battesimo magari stanno morendo da un incidente in macchina ma in quel momento dicono Yeshua Gesù perdonami salvami sono salvati magari un anziano che sta sul letto sta per andare all'ultimo momento lo fa tu non puoi dire niente su quella persona tu non hai nessun diritto di dire che la persona è salvata o no io vi voglio invitare oggi a accettare Yeshua come Hamashiach come Messia come vostro salvatore perché tu non sai se domani stai qui o no neanche fra un'ora tu puoi decidere eh vabbè ci penserò voglio decidere tu non sai se hai il momento di decidere puoi uscire da casa fra cinque minuti e non ci stai più io ve lo dico perché vi voglio bene viviamo nel nome di Gesù ok non puoi dire che hai domani domani non è dovuto a nessuno e lo sappiamo bene succede ci sono terremoti tsunami c'era gente sulla spiaggia stavano giocando all'improvviso viene un'enorme onda gli spazza via non ci stanno più questa è la verità la realtà della vita Dio ci dà questo momento qui per decidere sta bussando sulla tua porta se tu stai ascoltando questo video se stai ascoltando SoundCloud ti sta parlando perché ti ama come ha amato me io da piccolo ho accettato Gesù però ci sono stati dei momenti in cui mi sono allontanato e sono dovuto tornare e dire perdonami è bello che lui sta sempre là e quando torniamo lui corre verso di noi il padre stesso corre verso di noi adesso è il momento quindi se avete deciso di fare questa decisione oggi ripetete questa preghiera dopo di me ed è così semplice che semplice è non c'è più semplice di quello e se tu hai detto quella 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 preghiera veramente credendoci scriveteci via email sul sito qui su YouTube su SoundCloud quello che volete vi manderò un bel libro in omaggio sarà per voi se tu sei un ebreo o ebrea e non hai deciso ancora scriveteci io vi manderò un libro lo stesso questo libro che vi spiega il perché Yeshua è il Messia il Salvatore che lui è il figlio di Dio e lui è morto sulla croce per noi è diventato peccato per noi in modo che non dobbiamo noi vivere nel peccato ok possiamo avere la libertà dal peccato e stare sempre con lui non essere testardi perché non vi conviene l'orgoglio ci uccide non ci aiuta quindi voglio chiudere con la benedizione grazie di essere collegati con noi oggi Shabbat Shalom e spero di rivederli la prossima settimana per il nostro prossimo Parashah